ehi la ciurma io sono mazietes e ben ritrovati qui in questo nuovo episodio di expeditions viking come potrete vedere l'ambientazione è cambiata leggermente siamo ritornati nel villaggio ma prima hanno approfittato per prendermi un paio di giorni per girovagare intorno e raccogliere un po di riviste di risorse andando negli accampamenti per cui ho fatto tre o quattro notti in accampamento raccolto più che altro un pochettino di legno e un pochettino di razioni rispetto quanto ne avevamo prima perché ho detto visto che qua la timeline avevamo abbastanza tempo ancora per cui ho detto può stare che prendo ancora qualche giorno di libertà insomma raccoglie un po' di provviste prima di partire per tanto immagino che adesso che andiamo cliccare qui partiremo fortissimo proprio e quindi ciao e nulla insomma andremo via da qua dalla danimarca allora dobbiamo se parliamo con ruric cosa ci dice ruric come sta andando stai dando un occhio al clan mentre non ci sono certo se parliamo un attimo dai tuoi preparativi vorrei parlare di bjordis eifur sta peggiorando sembra allora ci sono andato eifur era solo di neffia ok non si sente abbastanza su agio per come si è compratto durante il ride ok dice che si è sentito inutile ok va bene pensano che sia debole che non sia abbastanza uomo direi secondo allora diventa un uomo e sono sempre stato qui a proteggerti quando me ghim bjord non c'era ma adesso devi imparare a proteggere la madre quando sono via non sono un guerriero questo è il motivo per cui si è un tegn e non sono io tegn e non lo sono io direi la 2 dai non devi per forza combattere per essere un leader forte mentre sono via mostra a tutti che sei deciso e forte insomma questo è quello che il nostro padre non ha mai realizzato ha sempre visto la debolezza fisica nella gente ma non le altre forze sto guardando questo in modo del tutto sbagliato grazie fratellino ci pensano eh sì perché se noi qua andiamo via e arriva dalla gente devi occupartene tu Rurik ciao mamma adesso che hai reclutato una ciurma completa sembrano un gruppetto abbastanza solido sei pronto per i veri preparativi? abbiamo un sacco da fare se devi partire quando il ghiaccio si sarà sciolto non avrai molto tempo per girare intorno nella campagna ok finisci la campagna tutti i contenuti opzionali in danimarca saranno non più disponibili sì ok noi abbiamo fatto tutto le secondarie le abbiamo portate a termine da quel che so abbiamo esplorato ogni zona al completo per cui party selection confirm sia noi accept current party tra l'altro ho parlato in giro per vedere se c'erano altri che potevamo reclutare ma no sì vada per loro ne abbiamo selezionati apposta qualche episodio fa per cui va bene mi dispiace un po' che la slayfer ha un morale molto basso però speriamo di poterlo migliorare ok abbiamo finito l'upgrade del campo entro intanto la prosperità è aumentata ok tutti si sono riuniti sulla spiaggia visto che la nostra nave sta per partire se solo fosse qui Meginbjorn a vedere questo la tua gente è raccolta davanti alla tua nave sarebbe stato così orgoglioso direi da 3 torneremo presto e porteremo i mezzi per costruire un clan forte credo in te noi tutti ora gli addi si rendono solo più difficili più ci metti a farli possano i venti degli dei riempire le tue vele mio figlio parliamo con tutti allora c'è un botto di gente qua e parliamo con tutti sono tutti qua radunati invece è fachissimo dai sono ancora tutti qua e dai ah no ma c'è c'è delle erbe la che potevamo raccogliere non abbiamo fatto ma quando ma perché è pieno di erba posso andare qua si si possiamo andare a raccogliere un botto di roba allora facciamo una cosa eh metto un ottimo in pausa e ci vediamo tra poco guardate quanta roba abbiamo recuperato c'è un stacco di roba già sono di erbe abbiamo fatto tipo 30 di erbe e un sacco di altre robe e in più guardate cosa ho scoperto eh pura sembra che stia bene perché è qua fuori cioè se entro nella casa di neffia cosa succede? mi sa che il letto è vuoto cioè non posso parlarci però eh no appunto sono cioè fuori non è a letto per cui penso che sia guarita grazie a medicina che abbiamo preso immagino cioè forse è uno spoiler perché si avrebbe detto in seguito però ehm oh siamo qua e l'abbiamo vista niente detto questo abbiamo recuperato un sacco di roba e veniamo qua a parlare con tutta la gente a parlare con Eidis no questi sono i nostri cioè così tutti sono qui i nostri i figli di Eidis l'hanno aiutato a caricarle cose sulla nave lo zio del suo ultimo marito è venuto anche a salutarla occupatevi del vostro pro zio ora ehm non riesce a seguire la fattoria molto da solo avrete bisogno di aiutarlo quando non ci sarò il suo figlio più piccolo si preoccupa no non combatterai vero? dipende dal thugne Torkel farò tutto quello che ha bisogno che sarà necessario per mantenere tutti al sicuro dovrei andare io al posto di te Torvaldr a 19 inverni abbastanza per combattere ehm ne abbiamo già parlato non farò questa discussione ancora non ora torna presto torna presto prima che che lo che te ne possa accorgere e non avrete voglia di altro più ehm le braccia ehm si inchina solennemente al suo allo zio di suo marito e si avvicina a nave sei sicuro che sarà tutto posto senza di te qui? quando il loro padre era dell'età di Torvaldr ha attraversato metà della 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 nazione insomma ehm da solo è abbastanza tempo che cioè è già tempo che la loro madre inizi a cioè smetta di cocolarli ehm diventa solo più dura più aspettiamo ok Ketil raccoglie e è vicino alcuni sacchi di equipaggiamento e saluta Liottro e Sigrid e occupati di te stesso la fuori ragazzo siamo davvero molto orgogliosi di te ehm vorrei poter venire con te ma Sig non sopravviverebbe senza di me aspetto che finiscono è brutto ma lui ha ragione siamo orgogliosi di te c'è bisogno di molto coraggio per seguire i tuoi amici nel pericolo è diventato davvero un cacciatore forte non come mia moglie di sicuro ehm ma di sicuro manterrai tutti ehm ben nutriti ed è ottimo che tua moglie sia una così brava cacciatrice vecchio uomo o moriresti di fame senza di me ti fanno dei piccoli insulti ridono e poi parla con Sigrid ehm cioè Sigrid parla direttamente con noi ho detto a Ketil di ehm ora dico a te di occuparti di lui Ketil è come un fratello per me tuo padre era l'uomo più il guerriero più forte che ho mai conosciuto i suoi uomini lo hanno amato e ha affrontato infinite infiniti viaggi nella sua vita qualsiasi cosa troverai là ehm ma qualsiasi cosa ha trovato laggiù ha comunque portato via la sua vita tu Ketil è neffia siete tutti così giovani so che probabilmente ti senti invincibile ma ho bisogno che vi guardiate l'un l'altro faccio la prima non farò che nulla succeda farò che nulla succeda a Ketil grazie sentirtelo dire mi fa stare molto meglio potta il vento portarti sicuramente a casa cioè sano e salvo a casa ehm parlano ancora un abbraccio e Ketil torna a parlare con te non mi aspettavo che fosse così facile dire addio non penso che Sigrid e Elliot lo abbiano trovato così facile staranno bene ma ci vorrà un po' prima che ti abitueranno alla mia essenza ma poi tutto tornerà al normale ne sono sicuro beh ehm porto le mie cose a bordo ci vediamo sulla nave quando sei pronto ok prendiamo con Rosco la Rosco non ha nessuno immagino ancora un sacco ehm dove metto la mia roba? ehm dovunque vuoi tutto quello che hai? abbastanza un cambio di vestiti e un un sacco pieno di roba di cui non vuoi neanche sapere nulla un cambio di vestiti vivo in un tugurio con una vecchia donna la Rosco ehm fa un cenno nella direzione di Nepia ehm occasione di ehm rendermi scintillante come la principessa guerriera laggiù come ha preso la notizia Hulda oh non era veramente qui oggi non le ho del tutto detto che stavo andando chi si occuperà di lei? i figli di Hades mi hanno promesso di controllare ogni mattina ed Hager le porterà la cena tutte le sere forse per il meglio la vecchia potrebbe non avverti lasciato avuto cioè non avverti concesso di lasciare non è così mi avrebbe fatto partire se fosse stata in una condizione migliore questo è tutto quello che hai ehm si me l'ha già detto è abbastanza provviste tra un po' di settimane ehm speriamo di trovarne un po' dove andremo come ti senti? abbastanza bene ma non ho mai lasciato questo villaggio prima farei la 2 non ti preoccupare ti occuperemo di te e la tua conoscenza della strogoneria ci aiuterà davvero bene farò lo del mio meglio bene sta lì sulla nave e fai come fosse a casa tua certo ah Gunnar è contento respira pieni polmoni ehm alza un pugno chiuso eh per salutarti come ti avvicini abbiamo preso una buona mattina per partire eh il cielo è chiaro e l'acqua è calma non è nessuno qui da salutare ma so come è difficile eh partire per la prima volta prendi tutto il tempo che ci vuole è qualcuno che ti aspetta a casa nessuno che aspetta che io ritorni forse vedrò ancora quelle persone un giorno se non vedranno loro prima me eh cosa pensi che troveremo laggiù? da quello che ho saputo larghi e ricchi tempi costruiti sulla costa non difesi e pronti per essere ripuliti tra te e me in confidenza penso che non siano del tutto indifesi potremmo fare una buona vittoria dopo la nostra ultima battaglia posso fidarti di te Gunnar intanto che mi dai una parte equa del bottino puoi fidarti di me e pianterò un ascio nel cranio di chiunque si metta nella nostra strada torno appena siamo pronti per partire ok questo ultimo torno ringraziamo non è bella forte e anche veloce intimidante con uno spazioso carico e ho capito poi questo che mi ha detto vabbè vabbè non c'era la parte del bu no con un prayer message bu vabbè che nave è una bella nave quella che Thorfinn ha costruito di sicuro ti porterà sano e salvo attraverso qualsiasi mare la Sleifr annuisce è davvero una bella nave la maestria di Thorfinn ci ha portato davvero onore a tutti la nave è buona sì ma è la ciurma quello che la merende davvero forte ben detto non c'è nessuno che ci dice che cosa troveremo là ma con me come tuo braccio destro non hai nulla da temere tu sei l'uomo più forte tra di noi ma non farti salire strani pensieri alla testa l'umiltà è una pretesa parlo quando penso di sapere la verità la tua famiglia non è qua la mia famiglia non è così soddisfatta dei recenti avvenimenti avrebbero preferito che io restassi qui per aiutare la fattoria e proteggere il clan mio padre ed io abbiamo già sistemato tutte le nostre questioni non avevo ragione perché lui fosse qui in questo momento sto giusto partendo sto giusto facendo festa con i miei amici sono pronto a partire quando tu lo sarai or she neffian ho bisogno del tuo aiuto non ho mi ha detto a mia madre che sto partendo puoi venire con me certo grazie grazie non so davvero se posso sopportarlo da sola vieni ok allora dobbiamo andare a si è un po' spoilerati questo pezzo fai attenzione la mazzatessa oh non essere un rompiscato l'ulfroen guarda che nave Luca guarda le persone si saranno ma posso augurare buona fortuna non posso? allora fallo un dolcino si si beh buona fortuna tutti vanno allora allora Rorik ha le mani dietro di sé senti la tua presenza dietro di lui e sembra triste non vedo nessuna speranza o gloria là fuori quando guardo attraverso l'oceano tutto quello che vedo è assenza e perdita vedo il mio piccolo fratellino che sparisce all'orizzonte in una bella nave con i suoi amici devoti e uscarli per non tornare mai più mi metto la mano sulla spalla mi spiace sei un uomo forte e cresciuto sei il mio tegno ora ma per me sarai sempre il mio piccolo fratellino la vergogna che sento perché non mi sarei mai osato di seguirti è davvero una cosa che mi opprime ti preoccupi per nessuna ragione hai ragione sì per forza hai ragione non mi hai mai dato nessun motivo di dubitare di te e comunque non posso che essere preoccupato ti gira e ti abbracci a più cura di te ma senza di te saremmo tutti i paressi eh sì se per caso noi dovessimo morire o cosa sarebbe un bel caso abbiamo appena iniziato a ricostruire le cose ma se non ci fossimo neanche più noi sarebbe un bel 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 pasticcio la madre nefia gyorgdis è davanti alla porta della casa con le braccia incrociate e con un'espressione un po' scocciata mazzetess non ti aspettano sulla nave? nefia nefia però dovrebbe dirvi qualcosa nefia prende un grande sospiro sto partendo mamma il mio tegn ha bisogno di me bjordis impallidis molto rapidamente no non puoi devi stare qui non puoi andare è pericoloso lo so che è pericoloso ma parto lascia queste avventure pericolose agli uomini vuoi arrivare a un punto senza fine in qualche l'anda distante? tua sorella ed io abbiamo bisogno di te qui dannazione mamma hai già il fura per una volta soltanto fidati del fatto che io sappia che cosa è meglio per me la madre di nefia si gira a te e la sua voce cresce di almeno un'ottava per favore mazzetess vai se insisti ma non prendere mia figlia e la tre e la tre e starai bene mi assicurerò che il clan si occupi di voi e chi si occuperà di nefia? pensi di poterla proteggere là fuori? pensi di poterla proteggere da qualsiasi orrore la vita no di qualsiasi orrore ha richiesto la vita del tuo stesso padre il più grande guerriero che questo clan abbia mai visto? una sorella gemella di nefia pare dietro sua madre e mette una mano gentile sulla sua spalla eppure è ancora vestita con le con i vestiti della notte ma si è coperta con due strati di lenzuola dalla sua per il fatto che è molto pallida è davvero esattamente come nefia hanno anche i capelli acconciati nella stessa maniera mamma stai facendo davvero una sceneggiata Pierdi si gira verso Ifura e l'abbraccia oh mia ragazza tua sorella vuole lasciarci la voce di Ifura è dolce e graziosa e manca la forza di sua sorella lasciala andare mamma nefia è destinata a cose molto più grandi nella sua vita Pierdi si fa una faccia come se tua figlia l'avesse pugnalato al cuore come puoi dire questo? tu già sapevi? provo leadership 2 non è soltanto per me o per te björgdis l'obiettivo di questa spedizione è di salvare il nostro villaggio e il nostro clan e non posso fare questo senza tua figlia ho bisogno che vi diciate addio così che noi possiamo partire questo questo sembra portarle via l'aria dai polmoni le labbra tremano quando guardo a nefia e finalmente abbraccia la figlia in un abbraccio molto stretto e il fura si unisce con un piccolo sorriso sulla faccia mia dolce nefia sei diventata così forte e bella come donna l'aria lascia le sue figlie e fa un passo indietro il mio cuore si rompe a vederti partire ma tuo padre sarebbe davvero orgoglioso di te sto che ti vedrò ancora nefia sta davvero facendo un lavoro meraviglioso per non scoppiare a piangere ti voglio bene mamma poi si gira verso il fura e solleva leggermente le solleva leggermente i capelli e anche tu tu insopportabile e a tre grazie björgdis ci vedremo ancora tra qualche mese nefi abbraccia di nuovo entrambi prima che di tornare verso la spiaggia si gira varie volte per fare un cenno di saluto felice a entrambi grazie per questo nulla e detto questo fatti tutti i saluti del caso per noi è passato parecchio tempo io vi invito a lasciare un mi piace un commento qua sotto e iscrivervi al canale se per caso non è stato fatto ci vediamo nel prossimo episodio io vi auguro una buona giornata ciao a tutti